Ogni giorno gli scrivo che mi ama, lui mi intima di lasciarlo in pace. Io gli rispondo, lo vedi che mi ami? Lui scrive, piuttosto che tornare da te, mi uccido. Questa è una chiara dichiarazione d'amore. Sei stata tu a dirmi che questa volta è veramente finita. Sì, ma è normale che io lo dica. Funziona così, è il gioco delle parti, io dico questa volta è finita. Tu devi dire no, vedrai che torno. Ma perché piangere tutte le notti, tutte, tutte? Sempre, dalle tre alle cinque del mattino. Chi sono queste tutte? La macchina è rotta e schedeci allo solo da cinque anni. Ma se io non ho il credito nel telefono, no? I messaggi mi arrivano lo stesso. Penso che sì. No, perché io ho mandato ventotto messaggi da ieri, non hai ricevuto nessuna risposta. Sempre cinquanta giorni. Sai qual è il tuo problema? Vediamo, qual è il mio problema. Che non deponi mai le armi. Sistema farmacopornografico. Una donna di quarantacinque anni esce dal mercato sessuale. Stai con me a parlare con me. Stai con lui. È una brutta di crescita. Stai in acqua. Se vuoi ti prendo appuntamento con lui. Ma chi è? È la psichiatra di mia madre. In cinque anni di matrimonio nemmeno un orgasmo. Ma adesso tutte così, dicono tutte che non vengono più. A me mi piace ancora tanto. Eh, piacerebbe anche a me. Lo diceva sempre, ma non da appoggiare nei locali pubblici, non da appoggiare. Mi prenderò la malattia di qualcuno. Che scopa tanto, magari. Allora, prima che te lo dica qualcun altro, magari te lo dico io. Si stanno per sposare. Ah sì? È già incinta? Beh, adesso io. Questo non c'è se... Oh! Come on, we out.